Siamo con Vanessa. Ciao Vanessa. Buongiorno a tutti, ciao. Allora, ha fatto tre belle interviste, adesso facciamo una quarta e poi la spediamo a casa. Grazie, così, pom. Perché alcune ragazze sono attratte dall'uomo sposato? Allora, diciamo che l'uomo sposato ha sempre un qualcosa di, anche lì, divieto. Diciamo come se avessi sulla faccia il cartello del divieto. Quindi diciamo che tante persone quando hanno un divieto, più lì si dice no non farlo, più hai voglia di farlo. Quindi diciamo che è sempre molto attraente. E poi diciamo che sapere che un uomo sposato tradisca per te un suo comunque punto di riferimento, perché è sposato, quindi tradisca la moglie, per te, ti dà sempre quel qualcosa di ah, capito? Mi sono spiegata con un giro, capito? E quindi diciamo che anche lì non è una soddisfazione, perché comunque poi non è mai bello mettersi in queste situazioni, però comunque ti dà un po' di autostima in più, no? E poi diciamo che l'uomo sposato è quello che non ti può mai rompere le scatole, perché è sposato, quindi non puoi, non può starti addosso come un uomo single e che ha voglia di vederti. Quindi è sposato, quindi puoi anche dirgli no, ricattarlo, no? Stasera sei con tua moglie, ciao! Quindi è, diciamo che c'è un'arma a doppio taglio. Ma tu sei mai stata, come dire, approcciata, mai avuto segnali di interesse all'uomo sposato? Sì. Più di uno? Sì. Sì. Ok. E con qualcuno di questi c'è stata qualcosa? Sì. Eh sì. E certo, se no non te lo dicevo. Questa cosa dobbiamo mettere di bip o la scuola, mi la faccio. Non ci sono riferimenti personali. No, va bene. Comunque sì. E ti dico, hai avuto, come dire, una sorta di momento di riflessione prima di... Sì. Sì. Allora, perché, vabbè no, in un caso no, perché era solo una cosa sessuale. Questo quando ero molto più piccola mi è capitato. Quindi era soltanto un rapporto sessuale da parte mia, quindi non ne fregava niente. Diciamo che quando è successo nella mia vita, è successo sempre con persone, cioè con uomini di cui le mogli non erano né mie amiche né mie conoscenti. Cioè, non avrei mai fatto una scelta del genere o comunque non mi sarei mai concessa a un'azione del genere nel caso in cui avessi conosciuto la moglie. Mai. Quindi per me, mogli sconosciute, ok, non ne frega niente, non sai né una mia amica né se il tuo marito fa queste cose. Mi spiace. Cioè, non è giusto, non è giusto perché non vorrei mai fosse affatto a me, però ci sono delle situazioni in cui a volte l'attrazione vince su tutto, quindi è capitato. E sì, diciamo che un po' dopo la prima volta che succede ti fai questa domanda. Dici, cazzo, cosa ho fatto? Perché l'ho fatto? Cioè, con tutte le persone che ci sono al mondo vado a prendermi con lo sposato. Però a volte capita, l'attrazione secondo me non si può comandare. non è una scelta. Non è... esatto. E a volte ti lascia andare anche a queste piccole... Devo comprarmi una fede, mettermi una dito e andare in giro con la fede. Però non è detto perché questi che non avevano la fede, nessuno dei due, quindi non è detto. Ah ok, erano mascherati. Perché io ogni tanto guardo, sto attenta a queste cose, invece nessuno dei due aveva la fede. Credibile. E le tue amiche anche loro hanno avuto... Sì. Beh no, non tutte, alcune mie amiche sì. Sì sì. Però purtroppo so anche di mie amiche che hanno avuto questi, diciamo, rapporti o comunque relazioni, queste tresche, con persone che... delle quali conoscevano la moglie. Ok. E secondo me no. Non è mai successo che, diciamo, poi questo tra l'altro marito volesse chiudere la relazione. Sì. Con la moglie. Sì. Sì. Ma è caduto a te e due amiche? A tutte e due. A tutte e due. Eh, lì è brutto. Lì è sicuro un po' brutto. Perché comunque ti senti in colpa. Eh, è un problema. È un bel problema, ti senti una merda. Ma sai perché anche l'uomo, secondo me, quando arriva a questo stadio che dice, caspita... Sì beh, diciamo che c'è un pre anche che qualcosa non va nella sua relazione, non è che... Assolutamente sì. Cioè non è che arriva l'altra ragazza vai, basta, butto tutto all'aria. Sicuramente c'è qualcosa di non risolto, comunque un qualcosa di... che non va bene nella sua relazione personale. Poi c'è la persona che entra a far parte della sua vita è la ciliegina sulla torta, secondo me. Ma quando succedono queste cose, tu non aumenti, come dire, la sfiducia nel genere maschile? Sì. Io non ho fiducia nel genere maschile. Ok. Mi spiace dirtelo, ma... No, no. Cioè era quello che volevo sentirmi dire. Vero. Non mi fido neanch'io. Io non mi fido manco di me stessa, figurati del genere maschile. No, zero. Cioè per me, no. Forse anche perché ho avuto tante situazioni, ho vissuto tante situazioni che mi hanno portato a pensare a questo, ma no. Proprio zero. Beh, devo dire che comunque sei molto sincera. È vero. Beh. No, raga, cioè è sincera. Sì, sono sincera. Se trovare ragazze così sincere che dicono la verità, che la spiattellano così davanti alla telecamera, cioè ci sono poche. Eh, meno male. Vabbè, io sono così proprio nella vita reale, quindi non... Cioè sei proprio... A volte questa cosa non ripaga. A me piace questa cosa qua. Ok? Anche perché io stesso sono così non mi piace, come dire, dire fesserie, preferisco dire robe in maniera molto aperta. Ma poi penso che quando tu racconti una cosa vera e sei vera al cento per cento arrivi anche di più alle persone. Sì. Quindi... Perché non hai bisogno di costrutti per modificare. Anche perché prima o poi i costrutti cadono. Esatto. Come il trucco, come il make-up. Qui da Cristi e Vanessa anche per oggi è tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.